Ciao mammina, sono io, il tuo bimbo! No, lo zio è contentissimo. Dice che sto imparando velocemente. Pensa che l'altro giorno mi ha preso un disparte e mi ha detto Eh, io devo andare via tre giorni, ti faccio dirigere tutto. Sai come faccio? Birra Moretti, sincera per tradizione. C'è un camion d'orzo da scaricare, caro. Mammi, devo andare. C'ho un consiglio d'amministrazione. All'aperto. All'aperto.